Io mi chiamo Ana Paola, sono brasiliana e abito nel sud del Brasile a Curitiba e sono allieva del corso di psicopedagogia per la vita consacrata. Ogni lezione è stata preparata con cura combinando teorie pratica e affrontando tematiche cruciali per la comprensione profonda della psicopedagogia applicata alla vita consacrata e questo approccio olistico ha rinchiuto la mia formazione personale rafforzato la mia capacità di applicare le conoscenze e quesite in contesto reale.